ma cos'è l'unice ha fatto? annazi io muoia qui mi fanno suonato fisco o tu tu moli Deus mi fai arrivi lui c'è cosa ha fatto? e poi è la città l'asporto la città è bella e' allora questa è grumisa fuori è sicuro a un'altra città a un'altra città ma con la sparta e' che stavo io ne stavo qualcuno è dove vedo io vai l'unice ha fatto vada andate vedevoli andate Cosa è Gesù Canazza? Cosa è Gesù Canazza? Cosa è Gesù Canazza? Cosa è Gesù Canazza? Ehi, ehi, chiama a una piñera? Una piñera, eh? Che piene, tu sai, sei, tu sai. Voi, malto, mi chiamo a prendere, mi lanciano a prendere, mi chiamo a prendere, mi chiamo a prendere.